Siamo con Franco Giacomelli, il coordinatore dell'associazione Mare Libero di Ostia, siamo presenti qui al flash mob di SEL per un mare di legalità. Cosa dice l'associazione Mare Libero? Dunque ci fa piacere che dopo tanto tempo di solitoni qualcun altro si rende conto della situazione del mare di Roma. Ovviamente abbiamo aderito a questo tema, l'associazione Mare Libero ha aderito perché è un argomento importantissimo. Speriamo che altre forze politiche, altre associazioni riprendano coscienza di questa situazione e veramente si comincia a fare sul serio perché il mare di Roma è veramente un mare di legalità, è un mare di legalità che deve essere rivisto, ripristinato. Quindi da parte nostra l'associazione Mare Libero è sempre pronta in prima fila, in prima linea ad appoggiare anche altre forze del territorio che stanno appunto verso questa direzione. Grazie. Grazie a voi.